Ai tre fattori precedenti possiamo aggiungere brevemente l'arrivo in manifestazione di un raggio o il suo ritrarsi. Il poco che possiamo dire su questo punto che costituisce una delle maggiori difficoltà può essere riassunto nelle affermazioni seguenti. In primo luogo le iniziazioni conseguite sui quattro raggi minori o da attributo non uguagliano quelle conseguite sui tre maggiori o di aspetto. Ciò è alquanto complicato dal fatto che nell'ambito dello schema planetario durante l'evoluzione ciclica un raggio minore può temporaneamente essere considerato maggiore. Ad esempio in questo periodo particolare del nostro schema planetario il settimo raggio di legge o d'ordine cerimoniale essendo un raggio di sintesi e sul quale opera il machoan viene considerato maggiore. In secondo luogo le prime tre iniziazioni sono conseguite sul raggio dell'ego e collegano l'uomo con la loggia bianca. Le ultime due sono conseguite sul raggio della monade e danno un preciso effetto sul sentiero di servizio che l'adepto sceglierà in seguito. Questa affermazione deve essere collegata con quella precedente ossia che la quinta iniziazione fa dell'uomo un membro della grande loggia o fratellanza di Sirio essendo in realtà la prima iniziazione di Sirio. La quarta è la sintesi delle iniziazioni della soglia nella loggia di Sirio. Infine il successivo sentiero di servizio dipende largamente dal raggio su cui è conseguita l'iniziazione. A questo punto si potrebbe chiedere a cosa servono queste informazioni. Per rispondere a questa domanda lo studente rifletta sul significato dell'attuale arrivo in manifestazione del raggio di legge o magia cerimoniale. Si tratta del raggio che si occupa delle forze costruttive della natura ed anche dell'uso intelligente della forma da parte dell'aspetto dita. È soprattutto il raggio del lavoro esecutivo allo scopo di costruire, coordinare, e produrre coesione nei quattro regni inferiori della natura. È largamente caratterizzato dall'energia che si manifesta nel rituale ma a tale termine non deve essere limitato all'uso che se ne fa attualmente nel rituale massonico o religioso. La sua applicazione è ben più vasta e include i metodi di organizzazioni operanti in tutti i popoli civili, quali il commercio, la finanza, le grandi imprese. Esso riveste particolare importanza per noi, essendo il raggio che offre un'opportunità specifica al mondo occidentale. Per mezzo di questa forza vitale di organizzazione esecutiva, di governo secondo la legge e l'ordine, il ritmo e il rituale, i popoli occidentali, dotati di mente concreta attiva e di grande capacità negli affari, potranno col tempo conseguire l'iniziazione. Un'iniziazione, ricordiamolo, su un raggio temporaneamente considerato maggiore. Molti iniziati e coloro che hanno conseguito l'adeptato nell'ultimo ciclo erano orientali o incarnati in corpi hindu. Quel ciclo era dominato dal sesto raggio che ora sta tramontando e dai due raggi che lo hanno preceduto. Per mantenere l'equilibrio ora si presenterà un periodo di conseguimento per gli occidentali e ciò avverrà su un raggio adatto al loro tipo di mente. È interessante notare che l'orientale consegue la meta mediante la meditazione e con un minimo di organizzazione pratica e di rituale, mentre l'occidentale la raggiunge prevalentemente con l'organizzazione prodotta dalla mente inferiore e con un tipo di meditazione di cui è esempio l'intensa concentrazione negli affari. L'applicazione mentale concentrata in una sola direzione dell'uomo d'affari europeo o americano può essere considerata una forma di meditazione. La purificazione del movente alla base di questa applicazione porterà all'occidente il suo giorno di opportunità. Avvalendosi di questa occasione e riconformandosi alle regole del sentiero a molti occidentali verrà offerta la possibilità di fare progressi ulteriori. All'uomo che sia pronto questa occasione si presenterà dove si trova nelle consuete circostanze della sua vita quotidiana. L'accoglierà compiendo il suo dovere, superando le prove e le difficoltà e aderendo alla voce del Dio interiore, ciò che distingue il vero candidato all'iniziazione. L'iniziazione comporta ciò che viene fatto giorno per giorno da chiunque stia coscientemente tentando di esercitarsi. La meta successiva da raggiungere e il prossimo lavoro da compiere vengono indicati dal maestro, sia esso il Dio interiore o un maestro se l'uomo ne è consapevole. E ne viene spiegato il motivo. Poi l'istruttore si ritrae in disparte e osserva l'aspirante che attua il suo compito. Osservando, egli ne vede i momenti di crisi in cui le prove cui è sottoposto da un lato focalizzano e disperdono qualche male, se si può usare questo termine non ancora eliminato, e dall'altro dimostrano al discepolo tanto la sua debolezza quanto la sua forza. Nelle grandi iniziazioni viene eseguito il medesimo procedimento e la capacità di superare prove e stadi più impegnativi dipenderà da quella dimostrata nel superare le prove minori di ogni giorno. Chi è fedele nelle piccole cose lo è anche nelle grandi. È un'affermazione occulta che dovrebbe caratterizzare l'attività quotidiana del vero aspirante. Le grandi cose vengono superate perché considerate semplicemente un'intensificazione di quelle consuete e nessuno iniziato ha mai superato la grande prova dell'iniziazione senza prima essersi abituato a superare quelle minori della vita di ogni giorno. Allora le prove sono viste come un fatto normale e quando si presentano vengono considerate come strutture consuete della sua vita. Tale atteggiamento mentale, una volta adottato, non permette più sorprese o sconfitte.